Comunque, ticket giornaliero. Vediamo se magari me ne esco easy. Ovviamente mai nella vita. Quanti ticket abbiamo? 408. Buttiamo sti 8 ticket così, un po' a rituale. Vediamo un po' cosa succede. Se posso risparmiare le gemme, sono contento. Se mi fai risparmiare le gemme, anche perché comunque adesso, fino a fine mese, abbiamo le free pool. Quindi, avendo le free pool, posso cercarmela anche lì. Poi, tra l'altro, facendo la challenge di oggi, arrivo al cinquantesimo BT token, quindi ho anche i token volendo, ma sicuramente non li andrò a spendere. Dammi le LD e ce ne usciamo subito. Ha 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 ha!